E quindi allora si capisce? Basta un attimo quel tocco di leggerezza e risolverà questo. E di fluidità. E di fluidità, e poi lo manca. Esatto. Invece di arrabbiarsi, non vale a meno la pena. I romani si sciolgono, ma questa calma olimpica può riuscire a raggiungere. Perché poi il tuo lavoro è una meditazione quotidiana. E quindi poi il senso ironico, oltre ad essere un meccanismo di difesa fondamentale, ma ti fa scorrere tutto in maniera più tranquilla. Ma ti si apre questo orizzonte ampio? Voi ti è venuto un'occasione puntuale. Ho visto come sono state, come aspettavi l'altro. Aspettava quando dai con questo aspetto? Magica! 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 Magica!